buonasera amici benvenuti sul mio canale sono qua in compagnia di ale ciao belli buonasera caricheremo questo video sia sul mio canale sul suo alex dvd dvd esatto e siamo qua appunto il compagnia di aprici questo bel box di tempesta argentata siamo a cazzo del lugia questo è il quarto box e ultimo che non comprate i quattro sperando di trovarlo quindi tutte le mie speranze risiedono qua dentro e dai che facciamo qua ci facciamo due bustine a testa come prima allora tu vuoi lugia la 1 te lo trovo non so se è quello alternet ecco ai codici falle pure vedere che tanto di regalo allora iniziamo che le riscattano perché non mi risponde mai nessuno io non lo metto per questo perché nessuno ringrazia nessuno di riscatta e allora io non glieli metto magari li regalo in privato per fare così anch'io adesso guarda sto caricando sti quattro box e regali codici ma se poi vedo che dopo nessuno mi scrive qualcosa nei commenti non li regalo neanche più perché sono vendibili quindi cosa so regalarli a nessuno a fare no almeno di almeno di grazie oppure ho trovato questo che ne so oppure io li riscatto cioè non è che mi serve ringraziamento primo pacchetto primo pullino buono buono un bel malamar o è un trago night dove piace anche di più da ball pool bravo bravo bene così primo pullino questo invece è codice bianco quindi dici acqua allora codice bianco questo è il codice a vediamo se magari è pure vino professor la una radiant potrebbe essere sai bene accetta visto che ricolleziona ci metto i bass drippi reverse e arc nine raro andiamo con gli altri due pacchettini allora su peschi a caso va in ordine a casa a casa a casa e a caso tanto su una strada disegnato si è vero dopo raccolgo e andiamo energia lanturn baldo altaria rafflet fennegin durant e moica beldum crocoroc reverse e noi verne raro si forse trocoroc mi manca vediamo dopo si si comunque va continuare a registrare si ok codice bianco per voi qua sarebbe da c'è voglio di spostare un attimo il cavalletto dire ok qua scusate che chiude ah ok ci siamo ma è arrivata notifica che c'ho il 20% dovremmo riuscire a farci il video completo male che vada sai montarli facciamo un pezzo alla volta allineatore per la palestra e prosclas raro bene vada pure questo che l'ho fortunato eccoli qua questi due sono quei due fortunati allora questo l'hai caduto fuori così bene questo è codice bianco maledizione dei codici bianchi allora bene chirlia eh già ho visto non sono buone eh ma quanti ditte emolga reverse e among bus il fungo e il funghetto ah ma pure i rari metti qua si ok sono comodo a smistare e slevare le totte o quelle che mi interessino un codicino nero eh codicino nero quindi bravo bravo stiamo attenti che ah oddio mi sa che non anche ho dato il codice bianchi vabbè nel caso eccolo qua chiusatelo cazzo riscattate riscattate ho fremati gratis va bene gratis no ma dove stanno i pull qua di sto box eh una fila di destra di solito si? allora ho sbagliato no a iniziare scherzando e niente cosa strano reverse e un medicamp holo ah no vado io dai che sono più fortunato allora e questo si sa io beh dai che stai comunque lo scherzi eh e insomma l'hai visto no? 12 12 si vabbè non pensati male ma ahahah gol bat meo vestic allenatore della palestra toge de maru peti lil pikachu growlick clink hypno reverse e brevieri di isui niente andiamo col prossimo ho tutti i codici bianchi comunque quando sono neri sono volo ah hai capito come sai quel codice è questo? bianco bianco mamma mia che schifo allora i miei neri sono i miei prossimi a sto punto mi vengo a sperare e andiamo dai ciutti e piglia sono massa e tu che di maru allora la rara è il garde voye e niente è un clang un clang vergogna vergogna clang vergogna e infatti ti ho detto che mi hai lasciato il codice nero eh va bene ma mica possono essere tutti ollo sti codici neri no? no infatti l'ho trovato i quattro? cinque ollo nel box precedente c'ha anche il segnalino di astro questo quindi bello se gli serve e gli venda cinque euro l'uno eh vabbò eh vabbè eh un piccolo pull e c'è pullettino pullettino ma niente di dai colori mi sembra guarda guarda che print line che bella serperio serperio eh serperio orvi devo guardare se mi manca l'altro l'altro let's go ti ho detto che mi hai lasciato due codici neri quindi i prossimi... eh sì i prossimi sono bianchi ok ok lala e abbiamo una cippa si mi manca me smirgo lesbio dratini saranno ollo cinciù mad tight slarp e crocodile bella bella è un bocamo che mi piace quindi se ci facessero magari qualche carta più gustosa mi sarebbe anche carino bello incazzato anche a me este holo di spada e scudo proprio mi fa schifo ah dalla prossima mi sa che le holo... belle le hai viste le prossime holo vabbè se sto come con le holo delle collezioni degli stack esatto viene fuori tanta roba perchè non hanno più quelle erighe del cazzo sono proprio brutte vabbè a chi piacciono piacciono ormai fanno schifo comunque gusti gusti personali ah no ho detto fossile sconosciuto fibas e moiga kimeko bunneri droves oh smirco ma forse questa mi manca non lo so adesso mi sono andato un attimo in confusione e vi risio adesso non mi ricordo devo guardare dopo c'è raulet con lo smirco che mi manca ma la rocra non c'è dubbio al solito è questa perchè anche questa non è una carta che ho visto tante volte quindi il codice è bianco e voi vai ma me ne lasci uno nero anche a me un po' di soddisfazione no vuoi che tu trovi lui si vai pure allora nessun problema sunburn e copa lion bellissimo mazza che box un po' scrauso comunque finora finora abbastanza dell'udente questo pesa di partito l'ho sentito bello solido quando ho scattato io con terra le carte non c'è niente perché c'è un codice bianco una due tre e quattro si c'è il pullino 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 c'è cos'è una tg no radian si e vai 0 ora rara 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 a te che ti serviva tutte mi servono ma no l'hai trovato e due nel primo boxe l'ho visto giraci l'hai trovato e anche l'altro serena l'hai trovato però c'avevo già però nel senso mi mancano tutte eh eh bravo finalmente una ben centrata io ce l'ho che sembra miscult quasi ben centrata è un parolone eh eh vabbè rispetto alla mia è perfetta ah ok però non è ben centrata è mint è mint bianco bianco e i prossimi allora neri sono tuoi va bene foglia poncho slurth lanch paroflet fennekin durant emolda beldum 0 ora bello questo questo mi mancava mi sa che mi manca pure a me 0 ora reverse il dare fox e il pool di ora per ora è 5k che è a del cazzo eh bravo non lo volevo dire il tuo video ma no vado penso che non ci siano problemi tanto vedo che ogni tanto anche te a parte il bestemmione eh non ti bannano i video vabbè l'ultima lo poi comunque visto che puoi scegliere se adatti i bambini o meno io dico sempre di no quindi in teoria puoi spiare quanto vuoi oh ma verna bene 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 questa mi mancava non vale niente però almeno qualcosa che mi manca piuttosto che trovare sempre le doppie il pool continua a salire siamo a 6 ah ecco qua l'uglia ragazzi lo sento sento il profumo di soldi senti che profumo di soldi questo burtino tu hai sminchiato no guarda l'angoli segno del mio bastro segno del mio bastro che ti guardi hai c'è il dito negro lungo non riesco sbircio tibas pumpy litten noi batte reverse ah ancora ah vai pure oh ultimi due della prima fila oh il pool è tutto a destra allora come ti avevo detto no eh eh stiamo già a 6 pool o sono vuoti ma dai speriamo di farlo no ma qualcosa sostanzioso spero che ce la metta una tg ruvida non so almeno qualcosa che bello ah niente niente ora palo sono solo sis zubat tegem fungus un grow light reverse e un ma mix magius raro ma questa fila è fatta tutta schifo l'ultimo pacchettino sarà il migliore in assoluto mi auguro ma questa fila eh o no si si guarda che bel codice bianco tutti i tirapoli dai anche dai con questi bianchi però oh che sfiga ragazzi qui ma che è venerdì 17 oggi sabato 16 che è qui non ho la connessione del tempo in questo periodo scusate d'usio energia difesa b toge de maru petril pikachu grow light di nuovo clink energia rigenerante reverse e zio arnaldo anche quella reverse ne manca a meno che non sia l'ultima manca la penultima mi pare che era questa andiamo con la prima bustina del lato destro ti vedrai che buona che sarà questa affanculo un po' che ci abbiamo bianco che schifo sti box oh ti hanno scammato eh mamma mia mamma mia oh lavoratrice sanflora ecco il che serviva l'altare più ordine relicant se li stavano spulciando per cercare le carte buone dici? eh eh si hanno richiusi pikachu reverse e frost class raro questo è il pool del box è veramente imbarazzante madonna qua solo un luggia può risollevare il morale eh deve risolverlo ci stanno quattro luggia hyper gold b ma io trovo la volo cazzo stanno andando in reverse oh bello che schifo è ma che schifo è sto box oh vuol dire ha fuori qualche qualche fuori serio qualche cosa regoloso oh ma non può essere no sai pure serena hyper che ne so qualcosa di economicamente valido se ci trovo niente da sto fornitore non compro più assolutamente proprio zero non gli prendo più niente eh una holo no no un pullino c'è ma non vedo il bordo d'argentato no è di normalissimo eh ma in theory a questi box dovrebbe essere garantito il full eh non la quantità ma cioè tipo una gold guarda questa c'è doppio pull si ma che me ne faccio insomma ce l'ho eh jinx che schifo che reggilex eh dai doppio pull ma che schifo 8 8 pull da un euro l'uno boh io non mi capacito guarda ma che mazzetti anche io allora ma che mazzetti ma chiama l'affocato mandiamo una denuncia alla pokemon bianco ma dai oh poi senti la gente ha scartato quattro lugia dentro un box comunque io per dire il lugia biastro il lugia biastro hyper il biastro gold mi mancano tutti eh ecco solo quelli c'è a me il b mi manca manca il b? ma vada ancora si adriano reverse e noi raro il b mi manca c'ho l'hyper e c'ho il biastro anche tu più mi metto hyper gold ah no l'hyper non ce l'ho scusa ne manca la tena mi piace il milotic però mi metto che si chiama milotic serena reverse la zuzzina e andiamo è possibile che siano sparse così male le carte buone cioè non penso che in queste ultime ci siamo tutto eh voglio questo perché ho già cominciato qualcosa qui eh così magari un altro pool buono ci potrebbe essere però ho dei tira fuori un po' il pool buono no? eh eh no che spesa è scusa eh ma sicuramente è una ola sicuramente è una ola la vedrai neanche un bordo argentato ho visto che non ho che schifo che schifo dai ti prego ti prego Lugia madonna dai madonna demoralizza eh eh un pochino ma veramente che schifo mancano ancora due quattro sei otto dieci riusciamo ma così il pool neanche lo carico il video metto tutti i pollici in giù nessuno si iscrive si iscrivono per i dieci gatti che mi seguono tutti convinti fa schifo ma ha sfigato tutti sotto è fake è fake è impossibile è impossibile si che schifo è scam scam al contrario madonna per ora ho pulato più da tutte e tre l'ultra premium coperto che da queste quattro box che sto prendendo capito? eh ma l'ultra premium secondo me hanno caricate bene sai si si almeno qua in trentino sono veramente belle compie poi vedo altri video di altri youtuber che sono tutte bruttissime vuote si manca un bambino mi trovano io ci ho trovato il mondo ho finito il culo era tutto in quelle ultra premium adesso basta spero di no niente smirco little oh 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 ho trovato rockcraft eh 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 boh ce l'ho anch'io adesso bah nuove pulle tra b e tg miserabili non c'è una biazza una gold un hype dove stanno queste carte? ma appunto è quello che sto dicendo dovrebbero essere robe garantite in questi box un codice bianco ho trovato quindi per cui vuoi che ce sia faccio il tricchettino da uno ma veramente è una schifezza cappola solo una tg poi sentivo dire tempo fa che ci sono dei box che danno in giro quei pre release che sono vuoti non vorrei che mi avesse sbolognato quei box lì che fanno schifo ah ok può essere i box con gli scarti codice nero ragazzi vai che risolleviamo l'intero box basta un look e siamo a posto eh non è che chiedo chissà che dalla vita ovviamente alternative ma anche un reggidrago alternative sarebbe bello sai ce l'ho quello ce l'hai? ce l'hai provato? mhm ah allora vedi che l'hai provato ma speriamo che tu mi leggerà così guardami ah dai ci andi altro pullino finito? si fai a 10 ben 10 pull come ha pullato sto box hai capito? il valore delle carte del primo box stava sui 30 euro contro i 110 d'acquisto come 110 d'acquisto? più di 110 no no 110 hai pagato? no no forse eh 150 avrai pagato box no 130 scusa ah ah sarà codice bianco nero? bianco ma dai veramente merani indidi baltoi bianco bianco flink fennekin reverse e lili grant raro io non mi capace guarda non ci spero neanche più perché so che c'è un uovo anche qua niente non gratta non gratta no no bravola io non mi capacito queste cose si c'è un pullino sullo slot della reverse si ma cosa vuoi che sia? eh o un geraci o uno serena serena e una ora ben 11 pull già stai tenendo conto? eh più o meno che vergogno che c'è bianco chiedo il rimborso di queste cose non si può ma che cazzo è oh vaffanculo valgono di più le comuni a momenti di quello che sto pullando aria vabbè che di questo mi mancava ah è finito bianco ma come fanno? scandalosi semmo che posso anche comprare carte dopo un po' scandale sto prendo quattro box ragazzi sono soldi insomma capisco che è una collezione cioè è un hobby costoso collezionare pokemon però neanche da numerci svelarsi per trovare le cose queste robe inizio a pensarmi neanche dal tabacchino finire le palle eh ultimi quattro pacchettini non mi aspettavo che Maxi ma che che il Maxi ci portasse sto box così scalperizzato e l'ho tenuto per ultimo perché era quello messo meglio e ho detto male che vada se ci trovo già Lugian neanche lo apro me lo tengo sealed bene bene ottima scelta se lo tenevo sealed era meglio dai bravo trova qualcosa ti prego salva il video ma non lo so con la foglio non penso in realtà allora il colore è bello ma ah si no è una trainer dai porco dio questo è è raguasa davvero si bravo quanto vale? eh una trentina d'euro un po' 20-30 euro doppio pull doppio pull amico mio doppio pull finalmente cos'hai mi manca bravo anche a me ah ok questo è bravo l'hyper beh Luca Viastro già e mi mancava due carte che mi mancavano bravissimo no che bello che bello il guasamo ma lo dai? no ma cofri il cazzo vai vai ancora uno allora mi lasciate in fondo i pullini speriamo che ne trovi un altro che sono comunque pullini ma anche se sono proprio pulveri beh dopo controlliamo guarda che viene 18-20 euro il biastro il biastro il lupia bianco eh ma qua c'è tra l'altro il guasamo se trovo doppio te lo scambio uno eh vorrei vedere insomma oh c'è qualcosa? altro pullino bravo bravo una digi interessante questa vai vai si 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 magari cos'hai il telepatico che te l'immagini già eh ok io li riconosco dall'odore ahahah saranno allenatori qualche allenatore vuoi della trainer gallery non mi manca possibilmente allora dai il devil è quella rara brando baldo e scudo baldo ne manca manca ma eh e penso che sia costosa eh così su due piedi no no eh però sono comunque una decina massimo una decina d'euro va bene piuttosto che trovare un'altra reverse beh guarda ultimi due pacchettini se trovi una gold o una hyper e codice bianco bene è l'ultimo pacchettino quello che può salvare tutto altrimenti la cosa migliore che hai trovato te era il quad porca miseria facciamo tre qui da uno sperando che la tg sia quella golosa un'altra tg golosa anche se non penso che cazzano dentro un sacco di tg tutte buone insomma abbiamo già trovato due o tre due la rara cling lang e niente no una ne hai trovata di tg golosa ah no pure scudo baldo lì ma dice nero dai 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 che magari l'ultimo pacchetto è quello è quello del re quaza dai Lugia scusate questo codice ve lo regalo riscattatelo così mi porta fortuna qualcosa c'è qualcosa c'è ma sicuramente è una V è una V troppo oscura lo capisco schiacciandole perché hanno spessore un pochino più grosso delle altre carte e mi sembrava nero visto il bordo di sfuggita ma non ci spero tanto eh niente è stato un box pietoso per fortuna Ale mi ha trovato tre carte carine che schifio guarda bene amici per questo video è tutto ci vediamo ai prossimi video che probabilmente sarà violetto e scarlato spacchettamento di quello quando mi arrivano dal fornitore dai portiamo pure Grolli Zenit vediamo una chiesa un saluto ciao ragazzi alla prossima volta e poi